Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Oggi a Camuci è stato il giorno dell'ultimo saluta a Francesco Sandrelli, la 53enne morto a seguito delle gravissime ossioni riportate mentre era a bordo della sua auto che è andata a fuoco a Roma. Le persone che si permettono di mandare, che non soccorrono chi è in una situazione disperata, non solo, la filmano e la mettono in rete, io proprio penso che peggio di così non possa andare la situazione, quindi spero vivamente che comunque vengano individuati i colpevoli e assegnate la giustizia. A parlare una parente, nel giorno dell'ultimo saluto a Francesco Sandrelli, il 53enne morto lo scorso 24 marzo a Roma a seguito delle gravi ferite riportate nell'incendio della sua auto avvenuto il 6 febbraio. L'incendio si è verificato lungo il grande raccordo anulare. Sandrelli, accortosi di quanto stava accadendo, ha fatto in tempo ad accostare e uscire dall'auto provando a liberarsi dai vestiti in fiamme. È in questo momento che alcuni passanti, anziché soccorrerlo, si sono messi a girare e pubblicare video con il loro smartphone deridendo la scena. La tragedia dell'indifferente? Totalmente, una cosa abominevole io trovo, veramente, capisco uno che non dica io non me la sento di entrare dentro una macchina infuocata, non sono un eroe, ma qui non si tratta di eroe, si tratta di... Ma nemmeno di stupidità, non lo so come poterla definire, ecco. Uno che sta a filmare, un uomo che prende fuoco e non fa niente. La procura ha aperto un fascicolo per capire i motivi del rogo e per omissione di soccorso. Sono stati affossati ideali, valori e bisogna ricostruirli. Questo è un grande problema, è un dramma della nostra società. Viviamo in un mondo dove non c'è più il rapporto umano, a mio avviso, quindi vedere una persona in difficoltà per quanto mi riguardi mi sarei fiondato per primo ad aiutarlo, non certamente a fare i video. Ma assistiamo a scene crudele tutti i giorni, come quando qualcuno in delle risse picchia magari un giovane e si riprende mentre questo viene massacrato davanti agli occhi di tutti. Oramai siamo davvero avulsi rispetto a quello che è un rapporto che dovremmo ricostruire. Il funerale si è svolto nella chiesa di Cristorea, Camucia, nel Cortonese, dove la famiglia di Sandrelli risiede. A ricordare l'amore per l'arte è stata la sorella Maria. Accanto al feretro un quadro, Francesco era un artista, uno scrittore, vicino alla sua foto una pubblicazione, La casa nella foresta, in suo ricordo una poesia. Parliamo adesso del processo Baby Gang a Montana. Lascerà il carcere di Prato per una comunità terapeutica dove resterà sempre ai domiciliari in attesa della sentenza. Il ventenne è considerato il leader delle Baby Gang che tra il 2020 e il 2021 avevano seminato il panico tra i giovani aretini. Adesso per lui una misura cautelare meno afflittiva, come deciso questa mattina dal collegio giudicante preseduto da Elena Pisto. Ad avanzare l'istanza era stata la legale di fiducia del giovane, l'avvocato Francesca Arcangioli. Il procedimento adesso riprenderà nel mese di maggio. Voltiamo pagina questa mattina, attimi di paura, all'istituto comprensivo Margaritone per il crollo di una parte del controsoffitto. È caduto un pannello del controsoffitto di un'aula, non ci sono altri danni nella scuola, ora stiamo valutando e soprattutto controllando nelle altre aule, quindi faremo un controllo generalizzato su tutta la scuola. Attimi di paura, questa mattina alla scuola secondaria di primo grado Margaritone ad Arezzo, dove è crollata una porzione di controsoffitto all'interno di un'aula. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo per le verifiche della struttura e i sanitari dell'emergenza urgenza. Un ragazzo è stato infatti colpito dai pezzi che sono caduti a terra, è stato portato all'ospedale San Donato in codice verde per le cure del caso. Parlando con la preside, proprio durante un cambio dell'orario c'erano dei ragazzi all'interno dell'aula che tra l'altro stavano uscendo e quindi poi dopo mi ha detto che il pannello ha preso sopra un bambino e quindi dopo sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Come sta il ragazzo? Mi hanno detto bene, gli hanno dato dei punti di sutura, però tutto a posto. L'aula è stata posta sotto sequestro e sono tuttora in corso le indagini. L'aula è chiusa, sono intervenuti i vigili del fuoco, noi già abbiamo fatto un sopralluogo con i tecnici della manutenzione per valutare quelli che erano anche i possibili danni che potevano arrecare appunto della situazione. Domani continueremo nei controlli anche nelle altre aule per vedere quelli che saranno magari altri problemi che potranno emergere. Sono state prese di mira tre farmacie nella notte da malviventi in Valtiberina a cavallo tra l'Umbria e la Toscana. Il primo episodio alle 5 a Santa Fiora alla periferia di Sansepolcro. Qui i ladri hanno sfondato la porta d'ingresso, una volta dentro però si sono dovuti accontentare di pochi spiccioli del fondo cassa perché a metterli in fuga c'è pensato il sistema di allarme. Quindi a bordo di un'auto rubata a Roma si sono diretti verso Monterchi per prendere di mira in questo caso la farmacia del paese ma sono stati messi in fuga dai titolari che abitano al piano superiore che insospettiti dei rumori si sono affacciati. La banda infine ha colpito anche a Selci Lama, in questo caso in Umbria, con un magro bottino però si sarebbero dati alla fuga. Sugli episodi stanno indagando i carabinieri, al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. E adesso andiamo a sentire l'appello di Mariano Scogliamiglio, titolare dell'omonimo ristorante che tre anni fa ebbe una grande visibilità con il programma televisivo Quattro Ristoranti ma che adesso è in grave difficoltà. È partita sui social network e poi è finita su tutti i quotidiani e su tutti i media la storia di Mariano Scogliamiglio, un cuoco, un ristoratore aretino che ci racconta che cosa gli è accaduto. Napoletano di nascita aretino d'adozione, Mariano Scogliamiglio ha aperto il suo ristorante nel 2009. I suoi guai, ci racconta, sarebbero iniziati dopo la sua partecipazione a quattro ristoranti in noto format televisivo condotto da Alessandro Borghese. Dopo il bacio con il suo compagno andato in onda nella puntata aretina, i clienti locali sarebbero notevolmente diminuiti. La pandemia e il caro Bollette poi ha fatto il resto e ora rischia di chiudere. Sicuramente dal bacio sono scaturite l'attacco omofobo, lo stalker, gli attacchi sui social. È vero, non si generalizza perché sarei veramente un pazzo a pensare questo. E sicuramente mio cognato aretino e mia nipote aretino, cioè non penso, non avrei scelto Arezzo per viverci. Cioè sarei stato un'autorete allucinante, cioè vado in un posto dove so che mi trovo male. Ma sarei stato un folle, è normale che non penso questo, Greta, non è così. Io ho cegli screenshot, ho fatto vedere uno che gli dice non sono omofobo, brutto bip, diciamolo, perché la parola sarebbe ben più grave, brutto pederasta. Oppure io non vado nei posti dove sculettano, e io non mi pare che sculetti. Ma questi sono posti pubblici. Oppure quell'altro che mi scrive, ah mi fanno schifo due uomini che si baciano, mi fanno passare l'appetito. Il mood di ingresso è scemato, ma la mia cucina non è cambiata, anzi delle due è migliorata. I miei prezzi sono sui 35 euro a scontrino, quindi voglio dire di media. L'appello per raccogliere fondi è andato deserto, ma Mariano vuole lasciarsi alle spalle questa brutta pagina e chiudere tutto a tarallucci e vino, anzi a stinco e pastiera. Cosa dedichi a chi vorrà scegliere il tuo ristorante per i prossimi giorni? Allora guardasi, come siamo a Pasqua? La pastiera. La pastiera che è un dolce tipico napoletano, che vedo che piace, quindi sì, gli adichiamo una bella pastiera. Passiamo alla politica. L'onorevole di Forza Italia Enrica Mazzetti ha incontrato ad Arezzo le categorie economiche per parlare del nuovo codice appalti. PNRR, ma non solo, incentivi sull'edilizia, opere pubbliche extra PNRR, oggi dobbiamo dare delle risposte. Lo faremo come stiamo già iniziando a fare, ossia approvando il codice appalti, facendo una ricognizione dei bonus edilizi. L'onorevole di Forza Italia Enrica Mazzetti, componente dell'ottava Commissione Ambiente, faccia faccia con le categorie economiche e gli ordini professionali sul tema del nuovo codice degli appalti. Non serve oggi criticare, ma serve dare le proposte. Ed è per questo che sto preparando una proposta di legge, che va proprio nel riordino degli incentivi edilizi, che si devono basare su tre capisalvi fondamentali, come il risparmio energetico, idrico e spismico, e che dobbiamo andare avanti in questa direzione. In questi giorni è stato approvato anche il codice appalti, che servirà allo sviluppo futuro del nostro paese e non al PNRR, perché il PNRR in buona parte già è stato assegnato ai progetti e fra l'altro dal legge è stato deciso di farlo con i decreti semplificazione e il decreto PNRR. Un incontro organizzato dal coordinamento provinciale del partito. Abbiamo voluto parlare direttamente con coloro che tutti i giorni vivono queste tematiche e sono i professionisti, per evitare di fare i soliti proclami, di sciacquarsi la bocca in maniera semplice e che poi serve a poco. Oggi è una domanda risposta, quindi senza rete, mettendoci anche la faccia. L'onorevole Mazzetti, come si dice, è dotata di coraggio, perché chiaramente quando si governa bisogna avere anche quello, e spiegare anche provvedimenti che sul momento possono apparire non totalmente graditi, ma se spiegati e compresi probabilmente aiutano tutti i professionisti e i cittadini ad avere le migliori risposte. Ed ancora PNRR, lato Toscana Sud e se Toscana si sono aggiudicate 21 milioni di euro per 30 progetti. Parte dalle piattaforme di raccolta e si procede con il cambiamento dei cassonetti, mettendo i cassonetti con il chip che consentono al cittadino di identificare chi è che fa il conferimento di rifiuto solido urbano, per passare poi a un sistema per il miglioramento della qualità della raccolta differenziata. Sono 30 i progetti ammessi ai finanziamenti PNRR, che interesseranno i comuni della Toscana Meridionale, lato Toscana Sud, che comprende i 104 comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Siene e del comprensorio della Val di Cornia, in provincia di Livorno, si è giudicato con il supporto tecnico di Sei Toscana, il gestore unico del servizio dei rifiuti dell'ambito territoriale, un finanziamento di oltre 21 milioni di euro attraverso il bando Mite Economia Circolare promosso dal governo. Da sottolineare che questi 30 progetti finanziati dal PNRR con 21 milioni di euro rappresentano in Toscana praticamente un unicum. Toscana Centro non ha ottenuto finanziamenti, la costa ha ottenuto 5 milioni di finanziamento. La Toscana Sud è riuscita a fare un lavoro di grande sintesi tra i comuni e il gestore, in modo tale che quello che si è portato a domanda è stato quasi integralmente finanziato. Quindi una grande risposta in termini di efficienza di quello che è, come ho detto anche in altre occasioni, l'ambito territoriale ottimale oltre il quale si perde concretezza rispetto ai territori. Quindi gli atto della Toscana alla fine, anche se li abbiamo un po' criticati all'inizio, oggi stanno funzionando. Perlomeno la Toscana Sud sta funzionando bene. Già da quest'anno e nel 2024 si vedrà la maggior parte della ricaduta sul territorio di questa progettazione. Sapete tutti che il PNRR deve chiudere entro il 2026, quindi in realtà sono i prossimi 2-3 anni al massimo. Ma i cittadini che cosa vedranno? Vedranno un modo di raccolta differenziata sempre più intelligente, sempre più dalla loro parte. Ecco, una raccolta differenziata sempre più intelligente che peserà meno sull'ambiente e sulle tasche dei cittadini. Ovviamente, sull'ambiente fondamentalmente perché più cresce la percentuale differenziata e meno si deve portare a termovalorizzazione e quindi migliorare il sistema emissivo di CO2. E dal punto di vista economico questi miglioramenti vengono in sostanza finanziati da un soggetto terzo per cui non ricadono in tariffa e quindi il cittadino avrà un servizio migliore a costi più bassi. Cambiamo argomento. A meno di un anno dall'incontro di Rondine con il Segretario Generale delle Nazioni Unite è stato firmato in questi giorni un protocollo d'intesa tra Rondine e l'Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite alla presenza della Missione Permanente d'Italia alle Nazioni Unite. Tramite la firma del protocollo d'intesa le due realtà potranno iniziare adesso a strutturare collaborazioni su principali temi di lavoro delle due organizzazioni quindi sull'educazione alla pace al dialogo interculturale ed interreligioso oltre a sviluppare assieme progetti e studi su più contesti nazionali ed internazionali. E adesso ci spostiamo all'impianto AISA di San Zeno dove ieri sono tornati gli studenti per i progetti Zero Spreco. Una volta che avete scritto Zero Spreco in questo foglio venite da noi, ci fate vedere se l'avete fatto e vi consegneremo due bicchieri per uno per andarvi a ricostruire quello che sarà il vostro telefono. 400 bambini e ragazzi a lezione di Zero Spreco ad AISA Impianti. È un piacere, inoltre sono i ragazzi oggi che insegnano nei grandi come dobbiamo fare la raccolta differenziata, la cura dell'ambiente. I ragazzi oggi hanno un'attenzione nei confronti dell'ambiente che noi alla loro età neanche ci sognavamo. Già da piccoli capire quello che si può fare è importante per la cittadinanza del futuro. Sono tornate le visite al polo impiantistico di San Zeno per imparare a rispettare l'ambiente e non sprecare risorse. Abbiamo la scuola elementare di Sant'Agostino, la scuola elementare di Proto Antico e la scuola media di Bibbiena. Le attività che questi ragazzi svolgeranno stamattina riguardano principalmente il progetto di ridurre gli sprechi alimentari con piccoli chef, poi abbiamo la parte del teatro del riciclo zero spreco e abbiamo anche l'onore di avere qui con noi il Consorzio Nazionale degli Imballaggi in Bioplastica, Biorepac, che insegnerà ai bambini la corretta gestione delle bioplastiche. Le scuole che hanno aderito a fine anno avranno una certificazione tipo una certificazione di qualità che indica che loro hanno applicato e stanno applicando delle regole di carattere gestionale nel cercare di ridurre il più possibile gli sprechi a scuola. È un percorso, non è solo un evento singolo. Lavoriamo con loro per migliorare la loro consapevolezza e soprattutto è il loro futuro, il pianeta è il loro futuro e quindi gli interessa tantissimo e sono veramente, veramente molto bravi. Tanti i laboratori per avvicinare i piccoli alla cultura del riciclo, dal teatro alla cucina zero spreco. Cosa si cucina oggi? Allora oggi si cucina i cibi dello zero spreco, quindi tutto quello che può essere rimasto in frigorifero invece di buttarlo si è messo dentro a una frittata, quindi una merenda a base di uovo, cipolla, formaggio, carotine e arricchita poi di tutte quelle verdurine che in una merenda di solito non si trovano nelle merende dei bambini, ma in questo caso ci sono e sono anche divertenti. Sabato 1 aprile invece i volontari del gruppo Etruri Affare Verde si sono dati appuntamento alla Parco Ambrosoli nei pressi del Tribunale di Arezzo. Si tratta del primo appuntamento della Nuovo Anno e sono stati raccolti 20 kg di spazzatura dal parco e dalla zona adiacente. Non sono state riscontrate particolari criticità all'interno del parco se non cumuli di rifiuti nella zona del parcheggio oltre a resti di bivacchi ed altri materiali documentati e segnalati alle autorità competenti. Il prossimo appuntamento è per il 6 maggio al Parco del Colle del Pionta. Si avvicina la Pasqua, anche ad Arezzo è tutto pronto per le vie Crucis che torneranno sia in città che in tutta la provincia. Sarà una Pasqua senza restrizioni, non accadeva da tre anni. Le immagini di una città deserta sono per fortuna solo un ricordo. Tornano dunque anche le vie Crucis nell'Arettino tra rievocazioni storiche e spiritualità, tradizioni che si rinnovano in ogni angolo della provincia dalle più piccole alle più grandi parrocchie del territorio. Questa del 2023 sarà anche la prima Pasqua a Aretina per Andrea Migliavacca, neovescovo della diocesi a Aretina succeduto a Riccardo Fontana. Il venerdì santo inizierà alle 9 in Duomo ad Arezzo e alle 18 le celebrazioni della Passione del Signore. Alle 21 il vescovo sarà a Cortona per la processione dei simulacri che si concluderà nella concattedrale per la commemorazione della Passione di Gesù Cristo. La reliquia fu donata a frate Elia dall'imperatore di Costantinopoli e da lui portata qui nel 1242. Le vie Crucis nell'Arettino torneranno anche a Castiglionfiorentino, Rigutino, Santa Firmina e sulla collina di San Zeno, tutte molto attese. Il sabato santo la veglia pasquale inizierà alle 23. Il giorno di Pasqua poi le celebrazioni presiedute dal vescovo Andrea inizieranno alle 10.30 nella cattedrale di Arezzo. In Piazza Grande domenica 30 aprile invece torna l'appuntamento con foto antiquaria alla storica mostra mercato organizzata da Fondazione Arezzo in Tour in collaborazione con il fotoclub La Chimera. Sotto le loggie vasari dalle 9 alle 18, 30 espositori provenienti da tutta Italia daranno vita a una singolare fiera dove sarà possibile acquistare o scambiare apparecchiature sia analogiche che digitali usate o fuori produzione. Non mancherà poi una sezione dedicata alla vendita di cartoline, libri e pubblicazioni varie di carattere fotografico. A pochi passi da Piazza Grande nell'altrio della provincia di Arezzo invece da oggi mostra l'esposizione Sor Volo. Guardare il paesaggio non soltanto come qualcosa di fondamentalmente estetico ma cercare di leggere tra le venature, tra le forme qualcosa che fa invece costruisce un coro visivo e musicale delle percezioni e delle espressioni umane. Un tentativo di rappresentazione allegorica dell'osservazione a distanza presentato sotto forma di concerto è questa l'idea di Franz Rosati realizzata con Sor Voli. È un mondo complesso, tanto è vero che indaga e investe diversi sensi, non solo la vista ma vedrete che sentirete anche della musica ed è un po' come un piccolo frammento di un'opera lirica contemporanea dove c'è una parte visiva, quindi una parte che racconta o che si può raccontare e una parte invece che si deve percepire, quindi sentire con l'aiuto della musica. Un'installazione di arte digitale che l'artista assembla con immagini satellitari e spazi virtuali generati dall'analisi delle informazioni recuperate dai veicoli spaziali in orbita attorno alla Terra. Un percorso audiovisivo multimediale tra immagini ma immerso in un suono generato da algoritmi di machine learning. Assolutamente intermediale, multidisciplinare o in qualche modo comunque sia importante il fatto che si utilizzino tante differenti tecniche e media per la realizzazione alla fine di un lavoro unico, di un lavoro unitario che veicola un contenuto fondamentalmente coeso e strutturato. La mostra Solvoli sarà ospitata nell'atrio d'onore del palazzo della provincia di Arezzo sino a giovedì, 4 maggio. Siamo nella parte più antica, nella parte più importante, nell'acropole di Arezzo, quindi siamo tra il Duomo, la Fortezza e appunto la provincia, quindi dove era nata tutta la città di una volta. Ecco, portare l'arte contemporanea qui è una vera sfida, ma anche una bella mostra d'arte contemporanea. Passiamo alla pagina dello sport, all'inclusione sociale incontra lo sport al trofeo Guido Guidelli. La manifestazione organizzata dalla SBA in programma dal 23 al 25 aprile tornerà ad ospitare di nuovo il Tantam Basketball di Castelvolturno, una squadra costituita esclusivamente da ragazzi extracomunitari di provenienza africana con problemi di inserimento e con difficoltà economica a cui viene fornita l'opportunità di giocare a pallacanestro in modo gratuito. La partecipazione di questa realtà è prevista con il fondamentale supporto del Comitato di Arezzo della UISP. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.